buon salve che dire questi due mesi di assenza sono stati dovuti a ho finito il quinto superiore ho fatto gli esami di maturità che si sono conclusi ieri quindi è arrivato il momento della mia rinascita il mio sommo ritorno il risveglio della fernice di fuoco la riemersione del kraken nell'arrivo del grande capo lo sbarco dell'imperatore della lega intergalattica la discesa del divino padre sulla sporca terra mortale perciò d'oggi ricomincio a lavorare a tempo pieno a serie animata videogioco gioco di carte musiche lingua della serie lord della serie e anche il rinnovamento della grafica dei personaggi della serie a cui lavorerò più attivamente dopo l'uscita dell'episodio 5.3 a cui sto già lavorando quindi signori iscrivetevi al canale ciao ciao Grazie per la visione!